superanima 7 le porte della rinascita di jane roberts l'epilogo degli dei ci sta guardando qualcuno disse zeus no in verità rispose cristo ne sei sicuro mentirebbe il figlio di dio non sono forse onnipotente disse cristo e tu non lo sei o gesù tono a zeus i due erano rimasti momentaneamente soli e stavano seduti sulle sedie a dondolo nella veranda dell'ospizio il silenzio era calato dolcemente intorno a loro ma si trattava di un silenzio molto particolare era talmente vitale da sembrare che in esso tutti i suoni possibili e immaginabili fossero pronti a emergere eppure perfino la voce di zeus così tonante non produceva alcun suono che orecchio umano potesse sentire giacché risuonava sull'altro lato del silenzio e allo stesso modo cristo e zeus dondolavano beati nella loro divina dimensione invisibili sull'altro lato della luce dove nessuno compreso superanima 7 avrebbe mai potuto trovarli è sempre tutto molto più tranquillo dopo che i visitatori se ne sono andati esclamò Hera era apparsa nella veranda e stava scrutando il divino orizzonte vedo che grazie al cielo il nostro mondo è tornato quello di prima Hera si sedette e incominciò ad ondolarsi tanto che la sua veste di taffetta arancione prese a frusciare frusciare e frusciare con un suono che nessuno poteva sentire naturalmente tranne gli dèi mi ricordo il sibilo della spada di maometto disse cristo si fece il segno della croce con le dita rugose e scattò in piedi i riccioli grigi ondeggiarono beh comunque la farsa è finita disse e con voce ancora più altisonante di quella di zeus gridò liberi tutti ora potete uscire a queste parole si ebbero simultaneamente vari sviluppi zeus Hera e cristo ringiovanirono di colpo l'impeto di rompente di un migliaio di nascite trasformò la loro pelle in carta pecorita conferendole un aspetto ideale radioso pressoché indescrivibile cristo aveva l'aspetto di un giovanotto con tutti i capelli in testa e la barba ricciuta di un bunno acceso zeus dalle giovani cosce possenti alla barba nera dimostrava un'età tra i 60 e i 100 anni ma pur con quei tratti senili aveva un'aria così giovanile che la sua vitalità era letteralmente di proporzioni divine anche Hera era splendidamente giovane e vecchia nel contempo una dea madre di una tale statura che cristo al vederla esclamò con voce estasiata ave o madre di dio che dio ti benedica figlio mio esclamò Hera ridendo e davanti agli occhi di cristo si trasformò nella vergine maria anche se la farsa è finita non cambierà nulla gridò zeus in qualunque modo la gente ci rappresenti si tratta sempre di un'illusione e io sono stufo di recitare una parte dov'è quel povero maometto qualcuno dovrebbe dirgli che ormai può deporre quella dannata spada e il povero buddha in fin dei conti lo stanno trasformando in una massa di gelatina e che differenza fa sbottò cristo questo non cambia noi comunque hai ragione proseguiamo con la nostra opera pia questi ruoli sono un intralcio stavolta Hera cristo e zeus gridarono tutti insieme liberi tutti potete uscire allo scoperto zeus gridò ancora più forte che la farsa finisca e immediatamente il gigantesco bagliore di una saetta divina colpì l'ospizio degli dei scendendo da un firmamento letteralmente infinito che nessun astronave avrebbe mai potuto trovare e nell'istante in cui il fulmine si abbatté si creò un improvviso tumulto accompagnato da un immenso frastuono come se tutti i suoni possibili si fossero messi a rimbombare per quanto ancora una volta quei suoni non erano udibili poiché si formavano sull'altro lato del silenzio che divide i mondi e nel momento stesso in cui cadde il fulmine le migliaia di statue che decoravano l'ospizio degli dei incominciarono a muoversi quelle ridenti teste di pietra si fecero di carne quelle rigide membra di marmo si stiracchiarono angeliche ali di gesso presero a battere le statue le sculture di legno dei maomettani il busto di zoroastro e ogni singola figura posta sopra le finestre e attorno ai pilastri si mossero si stiracchiarono e si rizzarono per saltare volare o balzare nel parco tanto che l'edificio stesso si dissolse nelle forme di tutti gli dei che lo avevano formato c'erano dei futuri e dei passati dei probabili dei zio e zia dei animali e dei uccello e ognuna per l'aspetto che aveva era splendida e ineguagliabile che edificio era fece cristo vedendo che le divinità che avevano ornato un fregio una torre o quant'altro si trasformavano ad una da statue di gesso legno pietra in forme viventi e calavano a terra accanto a lui nettare per tutti urlò zeus e soggiunse con immensa giovialità ma forse tu cristo preferisci vino e pesce ridi ridi pure rispose cristo puoi farla tu la parte di cristo la prossima volta io sono stufo di impersonare ruoli che comportano crocifissioni presto le idee torneranno di moda per l'umanità e tanto per cambiare vorrei essere una di loro questo è il problema che dobbiamo cambiare coi tempi disse maometto era sbucato di corcia dal giardino dietro l'ospizio gettando la spada nell'erba buddha è sempre stato il migliore sotto questo aspetto disse era sempre talmente ambiguo quella divina chiacchierata proseguì mentre gli dei si sdraiavano sull'erba verde in ondata di sole a sorseggiare del nettare e qualunque sembianza avessero era a suo modo spettacolare la voce della vergine maria si levò tra le altre è un vero peccato però per quanto mi riguarda la storia della crocifissione ha guastato tutto ma la gente pretende sempre che in un modo nell'altro gli dei vengano uccisi nel corso di questi drammi su via è tutto finito disse cristo in tono seccato ammetto che la cosa ha dato sui nervi anche a me ma se quello è il tipo di simbolo di cui la gente ha bisogno è quello che poi ottengono e d'altronde stanno imparando la vergine maria riprese le sembianze di hera e si unì al gruppo e in quel mentre sopraggiunse pegaso che dopo essere atterrato si mise a brucare delicatamente l'erba perché tutti questi bisticci disse il cavallo alato in tono benevolo alzando lo sguardo ci saranno ben presto delle nuove divinità lo si sente nell'aria ebbene spero che siano migliori di quelle del vecchio tipo disse zeus non è per niente creativo restare bloccati nei soliti vecchi ruoli forse le nuove divinità saranno più sensate così potremo cavarne veramente qualcosa di buono cristo ad esempio non è che abbia fatto grandi progressi e neanche io se è per questo ma il ruolo di un nuovo splendido dio dove poter affondare i denti su via non sarebbe fantastico non sarebbe fantastico non sarebbe fantastico la domanda fu ripresa da tutti gli dèi con stupore e construggimento suppongo che sia impossibile sussurrò tristemente pegaso non possiamo obbligare la gente ad accettarci per come siamo fece era a volte penso che sarebbe meglio per loro se lo facessimo disse zeus ridendo ma se potessero percepirci separati dal ruolo disse cristo con occhi sognanti ossia se non fossimo costretti a conformarci all'idea che hanno di noi ma se non ci conformiamo non ci percepiscono affatto e pensare che tutto sommato ognuno di noi aveva delle ottime qualità io credo che il problema stia nel fatto che la gente persista nella propria idea dei dettagli a livello in cui si trovano è abbastanza comprensibile che ci immaginino come esseri sovrumani rispetto alla loro specie ma pensare di definirci in base alle loro idee di razza o sessualità e ridicolo anche secondo i loro parametri sono davvero incredibili disse budda arrivando come sempre in ritardo aveva l'aspetto di un guru indiano condizione a cui pose all'istante rimedio trasformandosi in un albero travisano tutto quello che dice un dio aggiunse in tono rissoso se solo ci percepissero per come siamo realmente proprio quello che stavo dicendo io disse cristo con voce trionfante ma temo che sia una causa persa a parte la natura ribatte zeus che è la mia materializzazione preferita anche la mia non dimentichiamolo esclamò maometto è molto più gratificante creativa convenne pegaso ma perché la natura non gli basta disse budda non fanno che fraintendere i miei insegnamenti dicendo che la natura è insulsa o che lo scopo della vita terrena è di riuscire a liberarsene come se si trattasse di una malattia e poi farneticano sull'annullamento del desiderio io non ho mai detto una cosa simile era si trasformò nella vergine maria e disse io probabilmente comprendo gli umani meglio di chiunque voi e la mia miracolosa concezione la dice tutta non hanno proprio fiducia nella natura a loro non piace il ruolo che svolge la morte e di fatto non sono mai riusciti a vedere oltre la morte stessa è una cosa che li ossessiona tutto nella natura parla di nuove nascite eppure gli umani hanno un'enorme difficoltà a immaginare una componente divina nella natura io non capisco proprio come possano essere fatti così ma lo sono non vedono alcuna divinità neppure in se stessi disse zeus almeno gli dei dell'Olimpo erano presenti dentro e fuori la natura e costantemente nella natura umana Cristo invece è nato nel contesto della natura una sola volta e ben presto ne è stato trappato via beh torniamo ad essere noi stessi disse Cristo ormai se ne sono andati tutti non c'è bisogno di continuare con questi ruoli e comunque potrebbero mantenere una tale promessa disse nostalgicamente Hera mentre lei e tutte le altre divinità si sbarazzavano delle proprie sembianze e dei tratti caratteristici che le avevano accompagnate le loro coscienze individuali si unirono e si fusero l'una con l'altra compenetrandosi giocando festosamente e presero a turbinare attraverso universi mentali senza fine è giunta l'ora della nostra ispezione notturna dissero le miriade di pensieri inespressi sull'altro lato del silenzio e ogni coscienza divina rivolse la propria attenzione verso la terra vedendola in ogni sua parte fino alla più minuscola particella e si fuse con le montagne, il cielo, i mari lanciandosi gloriosamente in ogni cosa vivente ed esultando nella confortevole precisione del tempo terrestre gli dèi si tuffarono pieni di esuberanza dentro la terra privi di forma si trasformarono in alberi, in milioni di giardini e divennero pesci negli oceani e persone e insetti e animali si fusero nella luce del tramonto che entrava dalla finestra di Jeffrey scorrendo nelle pagine del manoscritto di questo libro posato sul tavolo e gli dèi continuarono a infondere vita, forma e sostanza alla terra grazie a tutti